Farsi venire a prendere con l'Acto 1, passi! Bene ragazzi, siamo in direzione Mirabiliandia, non so, dal rumore della macchina e della formazione interna, penso che potrete immaginare dove siamo e adesso però potete farci vedere. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Siamo pronti a credere in voi! Ghostbusters Italia è anche questo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!